Al via anche in provincia di Sondrio, in particolare in Val Chiavenna, i test salivari molecolari nelle scuole. Un accertamento non invasivo per gli alunni, spiegati a S della Montagna, in grado di rendere gli istituti scolastici ancora più sicuri, identificando gli studenti con alta carica virale, anche se presintomatici o asintomatici. La sperimentazione prenderà il via, come dicevamo a Chiavenna, all'istituto comprensivo Garibaldi, e precisamente in tre classi della scuola dell'infanzia, cinque classi della scuola primaria e in tre classi della scuola secondaria di primo grado, per un totale di circa 180 studenti. Le date individuate per lo screening, spiegati a S della Montagna, sono il 20 maggio, con ripetizione a distanza di 14 giorni, il 3 giugno a partire dalle 8.30. L'adesione è precisa all'Agenzia di tutela della salute e su base volontaria con il consenso delle famiglie. In caso di tampone salivare positivo, lo studente sarà contattato da personale di ATS per l'esecuzione del tampone nasofaringeo, di conferma in attesa dell'esito del tampone dovrà rimanere in isolamento. In caso di tampone positivo sarà disposta la quarantena per tutti i contatti stretti, sia scolastici sia familiari. In caso di tampone negativo terminerà l'isolamento. È un'iniziativa molto importante, il cui esito ci darà indicazioni sia sulla fattibilità dell'utilizzo di questi test per garantire l'apertura delle scuole in sicurezza, sia sulla capacità di autosomministrazione nelle diverse classi di età, commenta il direttore generale di ATS Lorella Cecconami. L'utilizzo dei test salivari, proprio per la semplicità della raccolta del campione, conclude offre la possibilità di effettuare indagini anche ripetute nel tempo, che saranno davvero utili soprattutto in ambito scolastico.